Puntata dedicata quasi interamente alle scuole, quella di ieri a Malalingue, i protagonisti sono stati giovani, coloro che diventeranno se non andranno via, classe dirigente, Mauro Lico, Seguenza, La Farina, licei uniti da un unico denominatore, la voglia di essere ascoltati, la giusta pretesa di decidere del loro futuro, non vogliono delegare a un consiglio scolastico provinciale fatto da pensionati il loro futuro. Il Mauro Lico, occupato con un confronto con il sindaco De Luca, non vuol perdere l'autonomia, in studio anche l'ex capogruppo di Forza Italia Giuseppe Trischitta e il PD Alessandro Russo. Da quest'ultimo una previsione, Trimarchi, assessore alla scuola, ha fatto malissimo, ha detto, difficile che resti su quella poltrona, io lo manderei via. Secondo me potrebbe non mangiarsi proprio Trimarchi il panetto. Perché? Perché non è stato incisivo come ci si aspettava, insomma, sulla vicenda proprio degli accorpamenti ha fatto un disastro, ha fatto un disastro, vogliamo dirlo, un disastro. Perché insomma, al di là delle vicende, ma lo ligo Seguenza, pensare di immaginare interi spostamenti, interi indirizzi da una scuola all'altra. E riuscire a scontentare tutti. Neanche immaginare, perché è una roba allucinante.